Amici di Sky, benvenuti a Mila Roma da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Questa è la grande festa di Paolo Maldini, il suo addio al stadio che l'ho visto gloriosamente protagonista, ma è anche una partita che conta per la partecipazione alla prossima ex compa UEFA European Cup, chiamatela come vi pare, o Champions League, Super Sport. 1.041 partite ufficiali, record! 646 in Serie A, record! 901 nel Milan, record! 126 partite in nazionale, record! 161 partite europee, record! 8 finali, record come Gento! 7 campionati, 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 5 Coppe campioni, 5 Supercoppe, 2 Intercontinentali, 1 Coppa del mondo per club! I numeri sono impressionanti, eppure non dicono tutti, oggi saluta Maldini, oggi saluta la sua Milano, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Sono pochi i campioni che finiscono così, bandiera di una squadra, patrimonio di tutti. Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Roma, buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Dunque oggi è l'addio di Paolo Maldini, potrebbe anche essere, anzi sarà probabilmente, l'addio anche di Carlo Ancelotti, a seconda del risultato di oggi e degli altri risultati che arriveranno dagli altri campi, se arriverà la qualificazione Champions League aritmetica per il Milan, potrebbe anche esserci l'annuncio domani del cambio tra Ancelotti e Leonardo con Ancelotti, che presumibilmente andrà al Chelsea, una partita che conta però anche per la Roma, che non vuole perdere il suo sesto posto in classifica, gli garantisce comunque la partecipazione in Europa per non chiudere male un'annata che comunque non è stata, lo ha detto lo stesso Spalletti, un'annata certamente da considerarsi positiva per la squadra giallorossa e pensare che la Roma è andata a un rigore alla fine, dall'eliminare l'Arsenal, da aprirsi le porte almeno della semifinale di Champions League, che tante volte le stagioni veramente cambiano per pochissimi dettagli, oggi è l'addio di Paolo Maldini, abbiamo visto tre generazioni di Maldini perché questo è il papà Cesare che ha raccontato oggi sulle pagine del Corriere della Sera, tra l'altro benissimo secondo me il rapporto con il figlio, c'è Maldini, Paolo in campo, abbiamo visto anche i due figli, queste sono le formazioni delle due squadre, gioca con un 4-4-2 che poi si modificherà in 4-3-1-2 la Roma perché Brighi sarà l'incursore, c'è intanto un minuto di raccoglimento per la scomparsa ieri del tifoso del Vicenza a Piacenza, poi vedremo anche la formazione. Grazie. È terminato il minuto di raccoglimento per la scomparsa del tifoso del Vicenza, caduto ieri purtroppo allo stadio dalle tribune a Parma, una scomparsa drammatica, una tragica fatalità che in tutti i campi si è voluta ricordare. Questa era la formazione del Milan, gioca Flamini a destra nella posizione di terzino che ormai è diventata la sua, una sorpresa positivissima, Flamini nella seconda parte del campionato è diventato quasi un insostituibile, anzi un insostituibile. Pensa che oggi non gioca Zambrotta che le aveva giocate tutte praticamente dall'inizio del campionato, fuori solo quando era stato squalificato, che lascia il posto a Jan Kulowski che torna in fascia a sinistra, gioca con due punte in Milan, in Zaghi e Pato e Cacca alle loro spalle, non gioca Claren Seedorf, anche lui sempre presente praticamente con Ancelotti, che siede in panchina. La grande giornata di Paolo Maldini, naturalmente uno che tu conosci benissimo, hai giocato anni e anni con lui. Sì, abbiamo giocato insieme nei mondiali, nei campionati europei, tante sfide nei derby, tu hai elencato prima le vittorie, io volevo elencare le qualità morali, perché nel calcio non è sufficiente avere qualità tecniche, tattiche, ma le qualità morali di Paolo veramente gli hanno permesso di avere una carriera lunghissima, si è meritato tutto quello che ha vinto, veramente ha incarnato l'attaccamento alla maglia, la personalità, la lealtà sportiva, la correttezza, veramente un esempio per tutti quanti. E come dicevo in apertura, sono quei giocatori che quando lasciano, non lasciano un vuoto solamente tra i loro tifosi, ma lasciano un vuoto direi in tutto il mondo calcistico italiano, non sono tantissimi quelli che lo hanno fatto all'addio, che hanno ottenuto il rispetto di tutti, uno dei momenti più belli dell'ultimo anno, ma forse anche della carriera di Maldini, lo ha ricordato lui stesso, è stato l'ultimo derby quando gli è stato tributato un grande applauso, uno striscione addirittura dai rivali di sempre, cioè dai tifosi dell'Inter, il segno di massimo rispetto proprio per quello che lui ha saputo rappresentare. E credo che sia anche importante dire che i grandi eroi dello sport diventano poi dei grandi simboli anche per i ragazzi che crescono. Ed ecco, sicuramente Maldini è un simbolo positivissimo, è uno che tu puoi sempre portare ad esempio quando porti il tuo figlio a giocare a pallone, tanto per intenderci. Assolutamente Fabio, io ho finito la mia frase con un esempio per tutti quanti, di lealtà, di correttezza, di spirito e di sacrificio. Al di là delle vittorie che sono state sicuramente tantissime e importanti, però come uomo indiscutibile. Stiamo attendendo la contemporaneità su tutti i campi per cominciare questa partita, è vero che c'è la festa di Maldini ma è una partita che conta e come, perché il Milan deve fare dei punti, perché poi si va a giocare l'ultima partita a Firenze con la Fiorentina e non deve portarsi a tiro di sorpasso per questi posti che contano per l'accesso diretto in Champions League. La Roma non vuole perdere sicuramente l'Europa. A bordo campo per noi c'è Alessandro Alciato, che ha seguito ovviamente il riscaldamento di Maldini, l'abbraccio di tutti i tifosi e vorrei sentirlo proprio su questo. Alessandro. Eh sì, ovviamente un riscaldamento particolare, non poteva essere altrimenti si commuoverà, l'ha detto Paolo Maldini, per il momento si è commosso poco, mi sembravano abbastanza lucidi gli occhi di Carlo Ancelotti, perché Maldini l'ha detto a tutti che questa sarà la sua ultima partita. Carlo Ancelotti non ha potuto ancora dirlo a nessuno, in questo momento fra l'altro c'è anche uno striscione in cui si ringrazia proprio Carletto dalla curva dei tifosi del Milan. C'è anche mangiante vicino alla parchina della Roma, tra poco andremo da lui. Intanto Vucinic che controlla il pallone, aveva battuto la Roma e aveva cercato subito un 1-2 ripetuto proprio tra Vucinic e Totti. Rize che cambia gioco dalla parte opposta per Cassetti, il pallone termina, il pallo laterale, la rimessa in gioco sarà proprio per il Milan. Il campo è veloce Fabio, è stato bagnato fino a pochi minuti fa, di fatti su questo cambio di gioco abbiamo visto la palla appena toccato per terra, ha preso velocità, quindi dovranno stare sicuramente molto attenti i giocatori. Maldini, applausi al suo primo tocco di palla, scambia con Beckham, ancora Maldini e adesso Favalli. Ambrosini, Favalli, Ambrosini. Io vi ricordo che un'ora e mezzo fa al sole c'erano 40 gradi in campo e questo non potrà che influire sul ritmo della partita. Sicuramente, alzare i ritmi secondo me è problematico, cioè tenereli per un certo periodo di tempo. Chi lo saprà fare sicuramente potrà avvantaggiarsi e portare a casa anche questa gara, però insomma per tutta la partita dovranno essere bravi, attenti, intelligenti a gestire il ritmo. Maldini per Favalli, all'indietro il pallone per Dida, prova a dar fastidio Mirko Vucinic, che ha una tradizione straordinariamente positiva con il Milan, con la maglia della Roma. Signore due gol anche all'andata, una doppietta, doppietta su e doppietta di pato. Fallo e calcio di punizione, è entrato completamente fuori tempo Brighi. De Marco chiede calma. Allora, intanto stavo guardando la Roma come schierata in campo, sembra proprio un 4-4-1-1, con Cassetti largo a destra, Tadea a sinistra, la coppia centrale Pizarro e Brighi. Kakà, cerca in verticale Inzaghi che è partito da fuori gioco, calcio di punizione per la Roma. Era in fuori gioco proprio Inzaghi. Vorrei chiedere anche il clima che si vive sulla panchina della Roma, Angelo Mangiante, perché per la Roma è stata una settimana del tutto particolare, con delle dichiarazioni rilasciate, tra l'altro il nostro Stefano Impallomeni, il Gioranelli che potrebbe acquisire la Roma nei prossimi giorni. Sono curioso di sapere come stanno vivendo i giocatori questi momenti, di un passaggio di cui si parla da tanto tempo, ma che in effetti non sembra molto prossimo. Intanto colpo di testa di Favalli, poi Totti che gira per Vucinic, Vucinic pensa il tiro, poi c'è il girimento per Tadei in area di rigore, Tadei con il sinistro, e Dida con il tacco riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo, dando anche l'impressione del gol. A me l'aveva data, infatti ti ho toccato, a me sembrava rete, poi non ho visto risultare sicuramente, tu sei stato molto bravo e attento come al solito, a capire dove era andata a finire la palla. Con il tacco sinistro l'ha degnato. Sì, palla geniale, alle spalle di Flamini, che deve migliorare in quel ruolo la posizione del corpo, perché tante volte si fa sorprendere alle spalle. Sono stato fortunato, perché ho visto battere la palla sui cartelloni pubblicitari dietro. È riuscito ad allontanare Beckham, palla in fallo laterale, noi andiamo da Angelo Mangiante. Angelo. Sicuramente questo clima di incertezza si riflette un po' sui giocatori, molti devono rinnovare i contratti, non hanno chiarezza sul futuro. Di sicuro oggi passa il treno per l'Europa League, ci tengono a ben figurare. Avete notato anche la sorpresa, c'è l'idea di Totti, di scendere in campo con la maglietta. Grazie Paolo, grande capitale. Eh sì, un giusto tributo che testimonia anche quello che insomma si sa, cioè che Maldini ha sempre avuto il rispetto di tutti gli avversari. Pato prova a partire con la sua velocità, fu mortifero nella partita di andata, due accelerazioni spaventose. Vucinic rispose poi con gol altrettanto belli però. sale Motta, che andrà a giocare con la nazionale under 21 di Casiraghi, la possibilità di vincere il campionato europeo. Totti, Rize, Vucinic, Rize, subentra, prova a passare, due rimpalli vinti da Rize, l'ultimo però favorisce l'intervento di Vida. La chiusura di Motta, non ha controllato Kakà, Brighi, Pisarro, Taddei. Buonissimo il suo primo inserimento, è stato anche fortunato di Vida a deviare con il tacco sinistro. Pisarro. Cambio gioco, deve retrocedere Cassetti, che arriva però a controllare il pallone. Cassetti è uno dei tanti giocatori della Roma, che ha avuto un sacco di problemi muscolari nel corso di questa stagione. L'ultimo è quello di Battista ieri. Totti, cerca la conclusione a scendere, non colpisce bene, se la prende un po' con il terreno, palla su fondo. Sì, anche Favalli chiede scusa ad Ambrosini, perché era nato lui in chiusura, non era chiuso molto bene su questa palla, ne ha approfittato Totti, che la palla gli rimbalzava anche bene, forse il piede d'appoggio gli scivolato. Il campo è insidioso, è stato bagnato, quindi la palla scivola via, anche una strada molto attenta a far presa con i tacchetti. come al solito. Esatto. Dida. Stacca Ambrosini, ha staccato però le sue spalle Cassetti. Ianculoschi per Pato, l'anticipo di Motta, gli prende bene il tempo, poi va via la grande Motta anche su Ianculoschi, cerca di mettere subito un pallone interessante al centro, è un po' ritardo qui Bucimic. La copertura di Maldini, Favalli, Pirlo, Ambrosini, Pirlo, Beckham, c'è stato un buon inizio della Roma, molto rapido, andata spesso in verticale. Beckham, come al solito Flamini, spesso gli gioca addirittura più avanti, il taglio di Beckham, makes sense. La Roma è una squadra che gioca bene a calcio, anche se quest'anno non ho attento risultati, però ha mandato in gol più di 16 giocatori, una squadra veramente strutturata bene per giocare a calcio. Insomma, il Minam è una squadra che può creare anche problemi nella Roma, perché ti fa giocare, e le accelerazioni sicuramente di Pato e Kakà, che fino ad ora sono stati serviti, o sono stati controllati molto bene durante la partita, durante la gara, la Roma potrà soffrire. Kakà fa passare il pallone, arriva la chiusura di Cassetti, poi Pisarro, Taddei, Pisarro in controtempo, prova ad arrivare Inzaghi, Pisarro fa prima, c'è fallo di Inzaghi, calcio di punizione per la Roma. Sette minuti di gioco, 0-0 tra Milan e Roma, ecco il tocco di Inzaghi su Pisarro, forse più col braccio, perché con le gambe in effetti il contatto non c'era stato. Cassetti, Totti, chiuso da Ambrosini, Ianculoschi nel breve, Pirlo, Beckham, sempre Taddei a dar fastidio a Beckham, avrà provato così la partita a Spalletti, Flaminé, Cenzaki che ricorre a destra, adesso taglia verso il centro, Flaminé aspetta il suo movimento e ricomincia da Pirlo, prova a dar fastidio Gucinic, Pirlo sul taglio ancora profondo di Flaminé, il pallone però troppo lungo si perde, e allora ci sarà remessa per Arthur, Arthur che sta finendo da titolare il campionato, dopo l'operazione alla cartilaggia del ginocchio destro, Perdoni, una delle due operazioni dell'ultimo mese della Roma, l'altra è Aquilani, sono stati esportati tre protuberanze che davano fastidio alla caviglia e che non gli permettevano di far passare infiammazione, permessa laterale ancora per la Roma con Cassetti, Brighi, Pissarro, Taddei, Rizè, Pissarro, Taddei, Pissarro, Taddei, Rizè, tutto nello stretto, Taddei esce bene la Roma dallo stretto, Brighi, viene fuori Totti, pensa al tiro, vuole un inserimento, ecco lo stadio di Brighi, era una palla geniale quella di Totti, messa lì nel buco, unico possibile, Pissarro, tu dai tempo e spazio a Totti, per giocare la palla, per te la mette dove vuole, sugli inserimenti sempre dei centrocampisti, come al solito Brighi, attento a Brugini. Mexes cerca la conclusione, chiede scusa, secondo me era un po' preoccupato dal poter rilanciare il controvielo avversario. Si, infatti voleva alleggerire o tentare la conclusione verso la porta, vediamo qui tanto la giocata di Totti, attento a Ambrosini a sbilanciare Brighi su questo inserimento centrale, la difesa si era aperta, ma c'erano anche, poteva servire anche i giocatori esterni, quindi attratti soprattutto da quello, Totti è veramente geniale. Dida, stacca di testa Ambrosini, alle sue spalle Cassetti, poi Pirlo, cerca l'apertura per Cacà, Motta cerca una finta, disorienta Cacà, la palla in termini di fallo laterale, andiamo ad Angelo Mangiante. Angelo. Si sa dire che Spalletti, pur essendo in emergenza al centrocampo, senza De Rossi e senza Perrotta, l'ha studiata dei minimi particolari, perché questa scelta di Cassetti alto a destra è per bloccare Ianculoschi e finora non si è mai sganciato. Taddei blocca Beckham sull'altra fascia e si ripropone, e poi c'è l'asse Brighi che si inserisce sugli assist di Totti. Perrotta è infortunato, De Rossi squalificato. Totti prende la mira, cerca con l'esterno di far girare il pallone, che invece va via abbastanza dritto. Una cosa da dire, visto Cacà dopo nove minuti è già andato in panchina a chiedere l'acqua. Poi gioca nella zona più assolata lui, perché adesso gli attaccanti da Roma hanno un po' di ombra e quelli del Milan per più di metà campo no. E poi fammi dire anche che le ultime due prestazioni non sono state all'altezza per quanto riguarda Cacà, sia contro la Juventus in casa e a Udino. La stagione è così, così. Il rinvio di Dida. Sul pallone arriva Cassetti, sceglie bene il tempo. Totti non arriva col tacco invece. Ianculoschi. Beckham che viene molto interno. Maldini. Ianculoschi. Favalli. Pato. Ambrosini. Pirlo. Cerca il taglio, non lo trova. Attenzione perché lascia scorrere il pallone Cassetti che poi chiede scusa perché Arthur si deve impegnare in zaghi, era sempre lì pronto come un avvoltoio. Milan che fa fatica a trovare, secondo me, sia Cacà che Pato, che sono i giocatori che quando prendono palla al piede si giù non ti possono mettere in difficoltà. Perché centralmente rimane soprattutto Pizarro. Brighi è sempre fuori ad andare a pressare gli altri. E Cacà si deve muovere tra le linee e trovarlo. Allora a quel punto diventa, puoi scardinare questo 4-4-1-1 della Roma fino adesso ben compatto. Colpo di testa tentato da Ianculoschi. Poi arriva Totti. Chiusura di Favalli. La rimessa laterale. Andiamo da Alessandro Ciada a bordo campo. Si respira lì, Alessandro. Si respira malissimo. I 40 gradi c'erano e ci sono ancora. Io vi segnalo, un Ancelotti arrabbiatissimo. Soprattutto per una cosa. Perché ha detto basta dare la palla indietro, bisogna portarla avanti. Attenzione però. Inzaghi prova a partire dopo un'accelerazione di Pato chiuso da Juan. Oggi è rientro Juan. Non gioca dalla partita con l'Arsenal. Un risentimento muscolare coscia destra consueto. Lui ha una cicatrice muscolare che si è infiammata. Ha avuto un paio di ricadute anche. Sono già due interventi importanti. Sempre su Pato, nell'uno contro uno. rischiando molto perché non accompagna, va dritto a cercare la palla. Prima sulla fascia sinistra e adesso centralmente. Seno Pato sarebbe andato in porta. E considera che la Roma è la quarta ultima difesa del campionato ma con Juan e Mexessi in mezzo ha una media di due punti a partita. Questo fa capire quanto sia fondamentale avere questi due centrali al di là della perrua degli altri. È vero. Proprio come caratteristiche si trovano bene. Si trovano bene, si conoscono. La coppia centrale difensiva più gioca insieme è il migliore. Favalli. 12 minuti. Maldini. Cerca la profondità per Inzaghi. Mexessi. La mette giù di petto. Poi tocca. Voleva forse Riese. Mette però nel fallo laterale. La remessa in gioco per il Milan. Cacca. Beckham. Maldini. Prova a partire col piede naturale. Poi allarga bene Maldini. Flamini. Cerca il traversone. Flamini per Inzaghi. Juan. Poi ancora Maldini. Pissarro. Maldini palleggia. Sempre Maldini. Attaccato da Riese. L'ultimo tocco di Maldini. Rimessa laterale per la Roma. Sending ovation subito per Maldini. No, è fatto bene a sottolinearlo. Si è trovato in quella zona di campo e ha cercato di andare via sull'esterno. Non ci è riuscito. Tanto Pissarro si è andato a complicare la vita, ha rischiato il pressing del Milan. Ambrosini. Pato. Il tocco è per Pirlo. Ambrosini. Poco movimento davanti. Ambrosini soffre un po' la pressione di Cassetti che lo porta ad allargarsi. Poi Motta si fa scappare e pallona le spalle. All'indietro per Arthur. Campanile altissimo di Arthur che non arriva neanche sulla tre quarti. Ancora Ambrosini. Totti sta per intervenire. Pirlo dà un'occhiataccia ad Ambrosini. Stava per infilarsi Totti tra i due. Poi Motta sullo stop non precisissimo di Cacà. La rimessa laterale comunque per il Milan. Ancora Ancora sta dicendo qualcosa ad Ambrosini. Ambrosini è andato in difficoltà perché i giocatori d'attacco dan già tutti fermi e posizionati al limite dell'area. Nessun movimento. Ha cercato una giocata dietro ma le due punte della Roma oscuravano questo tipo di passaggio. E quasi va a perdere la palla. Maldini. Flamini. E' un po' cambiata la posizione di Beckham in campo da quando gioca Flamini. Perché Flamini spinge moltissimo da quella parte e Beckham viene spesso centrale per lasciargli lo spazio. Cacà prova a controllare il pallone. Non evita la rimessa laterale. Che sarà per la Roma. Io penso che non sia cambiata tantissimo. Perché giustamente avendo un centrocampo a te lui deve stare più interno. E favorire la giocata esterna che dà ampiezza con Flamini. Ogni tanto si devono alternare. Anche lui la deve prendere la fascia. Pallone aperto per Rise. Stagione strepitosa secondo me da quando è arrivato di Beckham. Molto bene anche secondo me. Taddei. Rientra Taddei. Quasi pensa al tiro. Poi cede il pallone a Pisarro che fa girare. Brighi. Prova lui il destro. Colpisce forte. Palla non lontanissima dalla porta di vida. Ma Roma quando riparte attacca con tanti giocatori. Perché Pisarro viene sempre a giocare. Brighi come in questo caso o si inserisce o arriva alla conclusione. Milan i tre giocatori d'attacco secondo me devono dare sia Cacà, Patto e Inzaghi una mano. Dare compattezza alla squadra. Cacà di prima per Inzaghi. Inzaghi dà ancora dentro per Cacà. Il pallone è un po' lungo. Riesce Motta a fermarlo con un buon intervento. Ottima scelta di tempo. Cacà è stanco perché qui non è partito prima. Doveva partire prima. Quando ho visto che la palla arrivava si è messo in moto. Ma a quel punto Motta aveva letto già molto bene la situazione. Beckham. C'è Pisarro in copertura. Sconto 3-2. Il primo a rialzarsi poi è Taddei. Adesso un po' di campo flaminissi è scoperto. Vanno i due centrali della Roma. Taddei cerca Totti. Totti di prima ancora per Taddei che si infila perché è fuori gioco e passivo di Vucinic. In area di rigore. Dentro ancora per Vucinic. La Roma cerca di fare spettacolo lì davanti. Ambrosini. Le squadre sono già staccate in due Fabio. Maldini. Pato. Padiscono moltissimo il caldo le squadre. Ancora Pato. Maldini. Pato. Maldini. Oggi Maldini ha voglia di divertirsi secondo me. Prova a mettere in mezzo. Arriva Pisarro ad allontanare. Però sui piedi di Ambrosini che ricomincia da Kakà. Kakà vuole il destro. Lo prova a giro. C'è una deviazione. Calcio d'angolo. Sì. Favorito anche dalla sovrapposizione di Ambrosini. Che gli ha permesso di rientrare verso il centro. E cercare di trovare la porta con il suo destro. La Roma attenta. Beckham a battere il calcio d'angolo. Ambrosini. Cacà. Pato. Inzaghi in area di rigore. E Motta che prende Pato. Beckham verso il centro. Allontanato Cassetti. Grande aggancio di Totti. Aspetta Totti l'inserimento di Pisarro. Va Bucinic in profondità. Pisarro l'ha visto. Temporeggia ancora Pisarro. Bucinic è seguito bene da Favalli. Pisarro prende un po' di campo. E poi lo ferma Jankulowski. Beckham. Cambia tutto per l'inserimento di Pato. Velocissimo. Artur in anticipo. Lascia scorrere. Palla che va sul fondo. Sarebbe un po' ancelottimo. Prima la propria difesa ha fatto molto bene. Quando Pisarro puntava. Favalli è stato attento sul movimento di Bucinic. E ha permesso ai propri difensori di poter recuperare. Pisarro aspettava anche un inserimento di Totti. Ma faceva fatica ad accompagnare l'azione da dietro. Rize. Juan. Pisarro. Mexes. Pisarro. Totti. Ambrosini di forza. Poi subentra Favalli. Jankulowski per Maldini. Pirlo. C'è il movimento di Beckham a sinistra che ha provato a tagliare. Pirlo non è riuscito a servirlo. Kakà. Dentro per Pato. Buono inserimento tra le linee di Pato. Tocca il pallone Brighi. Con ottima scelta di tempo e lo ferma. Juan. Taddei. Nel nulla. Ambrosini. Cerca subito Inzaghi che giocava con la linea. Troppo lungo il passaggio. Nessun problema per Arturo. L'importanza dei radduppi da dietro. È stato molto bravo prima Brighi da dietro ad andare a chiudere. Tanto qui c'è un fallo di Beckham. Mi sembra che si sia spostato. È venuto a giocare a sinistra. Però Ambrosini è ancora lui a sinistra anche lui. Totti cambia tutto. Pato ha intuito. Il pallone per Kakà. Prova a farsi vedere Totti. Kakà. Fermato splendidamente da Mexes. Che ha dichiarato in settimana di voler restare la Roma. Taddei. Prova l'uno contro uno di forza Taddei. Con Pirlo. Prova ad andare via ancora Taddei. Pirlo lo ferma. La rimessa laterale per la Roma. Cercato ancora Taddei. Ha iniziato benissimo la partita Taddei. Vuole il cross. Lo prova una volta. Poi non riesce. In azione precedente è stato molto bravo Mexes a chiudere sul Kakà. Però ha sbagliato su me Pato. Perché Pato ha fatto un movimento verso il centro. Doveva allargarsi. E ha permesso a Mexes in mezzo a due di andare a prendere il pallone. Grande controllo di Kakà. E in fuori gioco Inzaghi. Si dispera ma forse Riese. Forse Riese lo teneva in gioco. Era proprio al limite. Ma forse Riese lo teneva in gioco. Totti cerca l'inserimento. Arriva la chiusura di Dida. Iankulovski. Pirlo. Andrusini. Beckham è tornato di là. Pato. Sbatte il pallone su Iankulovski. Favorisce ancora Pato. Cerca il traversone Pato. Poi un dribbling. Entra come una furia. Pisarro lo ferma. E prende il pallone. Quindi si continua a giocare. Pisarro. Vucinic. Parte Vucinic. Butta giù Favalli che aveva opposto resistenza in maniera fallosa. Si gioca per il vantaggio. Ancora Vucinic in area di rigore. Pirlo lo contiene. Ancora Pirlo. Sempre Vucinic in due. Un'azione quasi da rugby di Vucinic che alla fine viene fermato. Bravo Pirlo. Poi secondo me il fallo non c'era. Perché Pirlo ha perso l'equilibrio. E caduta solo. Si è lamentato un po' Vucinic. Ma bravo. Nell'uno contro l'uno. Certo Vucinic aveva fatto già 50 metri. Palla al piede. Non aveva più la forza e lo spunto per saltare Pirlo. Ma intelligentemente Pirlo si è messo davanti. Grande forza nelle gambe. E soprattutto nello scontro con Favalli che si era messo lì a fare body shake. Proprio a commettere fallo che non fa l'andare. Perfetto. Beckham. Pato. Cambia tutto. Non arriva sul pallone Taddei. C'è Flaminì dalla parte opposta. Occhio a Inzaghi. Ha respinto Rize. Poi Pisarro con un brivido. Arriva ancora Flaminì. La mette sul secondo pallo dove Pato è in fuori gioco. Caccio di punizione per la Roma. Attenta la Roma nel alzare sempre la linea difensiva. Anche in questo caso Pato si è trovato oltre. Devo stare attenti gli attaccanti. Venire in contromani per favorire l'inserimento da dietro dei centrocampisti. Cacà sopra tutti. E' molto arrabbiato Carlo Ancelotti. Andiamo da Alessandro Arciato. Tra un po' lo conosce bene. Visto che è coautore della sua biografia che uscirà mercoledì prossimo. Sarà presentata mercoledì prossimo. Colpo di testa di Totti. Poi arriva Flaminì. Cerca la profondità e trova il controllo di Rize. Chiuso. Beckham. Cacà. Preferisco la Coppa, si intitola il libro. La Coppa di Ancelotti. Il tiro da lontano di Cacà. Povellitario. Nessun problema per Arturo. Andiamo da Alessandro Arciato. Alessandro. Ti confermo Fabio che è un Ancelotti arrabbiatissimo ma dal primo minuto della partita in questo momento ad esempio sta riprendendo Pato. Gli ha detto di non stare fermo ma deve allargarsi, deve andare a cercare il pallone. Di sicuro non è contento di quello che sta vedendo in questo momento. un po' morbido Vucinic. Cacà parte ancora benissimo su Pisarro. Ecco l'accelerazione di Cacà. Ma Mexes ancora con un grande intervento. Sono interventi fatti bene, col tempo giusto rischiosi Fabio perché lì se non prende il pallone... Vuoi ammunizione o va in porta. Esatto. E ancora una volta Pato non ha fatto quello che diceva Ancelotti. Doveva allargarsi perché se Cacà poteva servire invece ha dovuto andare da solo con la palla. Pirlo cerca l'apertura per Jan Kulowski. Arriva Jan Kulowski al traversone con il destro. Non c'è nessuno. Arriva Beckham dalla parte opposta. Lo insegue Taddei. Beckham tiene il pallone in campo. Comincia da capo e prende un bel po' di applausi. Flamini. Il cross su Ambrosini. Arthur sicuro in uscita. Deve migliorare nel cross Flamini perché quelli sono cross troppo semplici per il portiere. Queste palle morbide. Deve rischiare quel cross. Non può metterla così. Brighi. Vucinic. Si gira. Attende Taddei. Sfida Flamini. Vuole l'1-2. Vucinic si ferma anche in questo caso un po' morbido. Sull'apertura c'è Pato che vola veloce. Controllo a seguire. Arthur riesce a trovare il pallone. Pato lo sta per far fuori con un controllo con il sinistro. Eh sì. Già io ho visto fare un gol del genere Pato. Con il controllo a sallungare la palla. Qui aveva fatto ancora una volta molto molto bene. Su un sul lancio di Beckham. Perfetto. Motta. Brighi. Pizarro. Taddei. Totti. Il pallone è girato ancora per Pizarro. Mexes. Totti dentro ancora. Brighi. Sul fondo. Brighi con questi inserimenti aveva fatto una grande partita con l'Inter anche. Ma lui ha fatto un campionato incredibile. In tutti i sistemi di gioco che la Roma ha alternato in questa stagione. Lui è stato fondamentale. Ma questi inserimenti senza palla. Degli 1-2. Puoi sfruttare sempre il movimento di Totti. Poi Totti te la redà sempre con i giri giusti. Però lui arriva. Corre tantissimo. Uno dei pochi che va senza palla. Ambrosini. Iankuloschi. Ambrosini. Pirlo. All'indietro il pallone per Maldini. Andiamo ad Angelo Mangiante. Angelo. Guarda. Brighi è davvero l'ago della bilancia del centrocampo di Spalletti. Perché gli ha chiesto anche quando Kakà va per vie centrali. Che deve essere lui in prima battuta. E non Pizarro. Proprio per la sua forza fisica. È chiaro che in questi casi. Fare un po' di pressing su Pirlo. Deve essere Vucinic. Iankuloschi. Prova il traversone per Inzachi. Che non arriva ma era in fuori gioco. Continua il suo uno contro uno personalissimo con Nicoletti. Che è il guardanino da quella parte. Era partito davanti. L'aveva anche sfiorata la palla. Questo però è un signor cross. Mentre prima ha criticato quello di Flamini. Questo a girare forte. Iankuloschi ha il piede per farlo. Totti. Vucinic. Totti. Ancora per Vucinic. C'è che è in trenare di rigore. Trattenuto da Maldini. C'era una trattenuta evidente su Vucinic di Maldini. De Marco non ha fischiato calcio di punizione. Vucinic era davanti a Maldini. Era in porta. E Maldini gli sta chiedendo anche scusa. Svista, devo dire, abbastanza clamorosa dell'arbitro qui. Perché era visibilissima la trattenuta. Era rimasto proprio fermo Vucinic. Cacca in profondità. Juan. È vero. Ha fatto tutto molto bene perché la palla di Totti ancora era difficile per il difensore centrale. Per Maldini in quell'occasione. Una volta vistosi Santato con esperienza è andato a fare fallo. Poi l'arbitro non l'ha visto. Era lì l'arbitro. Cosa dobbiamo dire? Mexes, Totti. Contrasto di Ambrosini. Pallone arriva su Flamini. Poi Beckham. Cerca la profondità. E il pallone si perde direttamente dalla parte opposta in fallo di fondo. Ecco il pallone. Era trattenuta, guardate. Evidentissima. L'ha lasciato all'interno dell'area di rigore. Era punizione dal limite. Assolutamente. Guarda la maglia. Ma no, ma è evidentissima. Prova occhio nudo. Non ci potevano vedere. Pisarro. Parlevamo poi di pallone, di qualità morale. Subito andare a scoprire. Subito. Ha chiesto scusa a Vucinic e gli ha detto che l'avevo fermato. Era calcio di punizione dal limite. Rise. Pisarro. Taddei. Avvia Taddei a Flamini. Il traversone di Taddei. Poi ancora Taddei che rispetto all'ultimo uscito sembra in ripresa di condizione. Anche lui ha avuto tantissimi problemi fisici quest'anno. Se solo ci ricordiamo il Taddei di due anni fa quanto correva. Come era stato importante nella Roma. Anche lui ha un'assenza che ha pesato tantissimo insomma. Polpaccio destro. Due mesi. È tornato a novembre. Distraczione coscia a sinistra. Poi altri guai. Alla fine cinque mesi di stop muscolare compleso l'ultima rigaduta contro l'Arsenal. Maldini. Pirlo. Beckham. Si gira Beckham. Cerca un taglio. Arriva la chiusura di Motta. Cassetti ancora per Motta che ha campo di fronte a sé. Prova a recuperare Kakà che deve accelerare perché Motta ha molto campo. Trova Totti centrale. Uno due ancora per Motta. Kakà l'ha mollato. Motta è pronta al traversone. Riesce a controllare. Poi però ricomincia ancora da Totti. McSess. Un buon pallone sempre per Taddei. Pisarro. Taddei ancora in area di rigore. Taddei cerca la conclusione. E Dida anticipa Brighi. Qui è stato bravo il portiere. Perché se non anticipa e non esce e va a prevedere prima dove arriva la palla. Lì è subito pronto la Roma a metterla dentro. Ancora con Brighi che si è inserito. E ancora guarda sta tornando a buona velocità dopo un allungo di 50-70 metri. 28 minuti 0-0 tra Milano e Roma. E' una delle Rome migliori di quest'ultimo periodo. Kakà. Le qualità ci sono. I ritmi poi sono bassi. Ecco forse questo. Con questo caldo il ritmo è leggermente più basso. E quindi poi la qualità tecnica della Roma. Non che Milano ne abbia. Ma la qualità tecnica della Roma si fa vedere. Pirlo. Ribattuto il tentativo da Brighi. Il Vucinic potrebbe partire. Cerca ancora Totti. Totti porta palla. Attaccato da Jan Kulowski che commette fallo. L'arbitro dice che ha preso il pallone. Ma mi sembrava nettissimo anche qui il fallo di Jan Kulowski. Apertura per Pato dalla parte opposta. Pato in area di rigore. Artur riesce a metterla. No, non la tocca Artur. C'è semplice rimessa da fondo. Incredibile. Totti è imbufalito. Stava protestando ancora con il collaboratore dell'arbitro. Anche Spalletti. Adesso vediamo la posizione. Fuori gioco probabilmente. E poi Artur secondo me l'ha toccata. Anche io avevo avuto quell'impressione. Una serie di papere della terna abitrale una dietro l'altra. Misidiali. Anche Jan Kulowski adesso sta dicendo qualcosa a Totti. Ha chiesto scusa a Totti perché è entrato da dietro. L'ha preso sulla caviglia. Poi Totti ha toccato il pallone che è andato avanti. Quello era fallo. Flamini. Maldini. E poi invece c'era calcio d'angolo per il Milan. Ambrosini. Pato. Buona la sua accelerazione di prima. Dentro ancora il pallone per Kakà. Attaccato da Nexès che commette fallo. Calcio di punizione per la Roma per fallo di mano di Kakà. Mi sembra che abbia visto bene. Se voglio rivedere. Nexès aveva toccato le caviglie di Kakà. Dici? Vediamo. Sì. Avvi ragione tu. Non male no? Fino adesso non ne ha presa una. Era fallo per il Milan. Non ne ha presa una. Ecco che ne ha preso. I ultimi 5 interventi tutti sbagliati. Pisarro. Juan. Un colpato non si deve in testa a dire andare centralmente. Deve ascoltare quel che dice Angelotti. Le cose migliori le fa Fabio quando viene a sinistra. Hai visto questi cambi di gioco e le accelerazioni. Poi rimanendo largo. Permette l'inserimento. con questi tagli di Kakà che fa sempre molto bene. Ambrosini. Kakà. Ambrosini. Cerca di dare il pallone per un inserimento di Inzaghi. Colpo di testa di Rize. Calma dice Pisarro. C'è Taddei. Totti. Brighi. Totti. Taddei. Totti. Prende la mira. Calcio di destro. Centrale. Dida. Era una soluzione. Ne aveva altri due se non è. Il movimento di Vucinic. Eppure il largo per Cassetti che aveva spinto molto bene ed era già al limite dell'aria. Poteva essere servito. Favalli. Favalli. Ambrosini. Kakà. Pato. Motta prova a fermarlo. Calcio di punizione per il Milano. Vuole bere Pato. Si bagna anche la testa. È pronto a battere il calcio di punizione Beckham. Ecco Gattuso. Capitano. Prossimo capitano designato. Mi sembra una scelta. Allora diciamo che da un punto di vista tecnico Ambrosini è dato il tempo di Milano. Però abbiamo detto tante volte che Gattuso è un po' il leader emotivo. Il leader emotivo sì. L'hai definito così tu. Ma Beckham cerca un pallone interessante sul primo palo. Si faceva vedere Ambrosini. C'è stato Cassetti che ha messo in calcio d'angolo al 32esimo 0-0 tra Milano e Roma. Pronto a battere ancora Beckham. Palla sul primo palo. Inzaghi cerca l'anticipo. Colpisce anche Taddei. C'è rimessa dal fondo per la Roma. E ha preso la gomitata Taddei da Inzaghi. Non volontaria secondo me. Ha preso il tempo poi saltandolo ha colpito. Si ferma il gioco e volano litri d'acqua in campo. Veramente è una situazione strana. C'è un consumo di acqua. Praticamente la zona al sole è una sauna. Possiamo dirlo. C'è un stadio un attimo giù. Noi è terribile lì. Un caldo incredibile in questa settimana fa. Mi penso fosse in Cugno proprio oggi. Un caldo così inusuale per questo periodo. Quest'anno veramente abbiamo avuto un freddo cane per tutto l'inverno. Coperte, neve, ne abbiamo visto di tutti i colori. E poi dalla primavera siamo passati direttamente al caldo pro. Mi sarebbe da dire che non ci sono più le mezze stagioni, guarda. Diciamolo. Si rialza Taddei che è pronto a rientrare in campo. Ed è pronto il rinvio anche Arthur. Andiamo ad Angelo Mangiante. Vi voglio chiedere se Spalletti è soddisfatto di questa buona Roma che si è vista nei primi 34 minuti di gioco. Guarda, intanto Fabio proprio in questo momento stava parlottando con Totti perché gli ha chiesto di rimanere calmo perché già si era un po' innervosito su quella trattenuta precedenza su Vucini e da parte di Paolo Maldini. Ma insomma si era molto innervosito sul fallo da dietro di Jan Kulowski. Ha detto che rimaniamo calmi che la partita la stiamo facendo noi. E allora questa frase forse testimonia anche di come si è soddisfatto dell'impronta finora della Roma. Kakà per Pato. Ora sta uscendo il Milan. Soprattutto Pato sembra fare più movimento. Cerca il destro. Ha calciato da fermo. Ha dato una potenza Pato. La facilità di Pato nel calciare è incredibile anche da fermo. Però su Martul ha visto che... Ha controllato. È pronto a rinvio Artul. Totti di testa. Gira in anticipo su Favalli. Vucinic riesce a vincere il duello con Pirlo. Vucinic ancora. Ora Vucinic. Pirlo da dietro. Calcio di posizione per la Roma. Due contro cinque. Fanno sempre paura queste due davanti. Perché la palla è sempre incollata al piede. Non gliela stacchi mai. Qui forse Pirlo tocca il pallone. Fabio. Da questa inquadratura mi sembrava avesse toccato il pallone. In diretta ha ragionato sul fallo. Cinque uomini vuole Dida. C'è anche Rise con Pisarro e Totti. Mi sa che va Totti. Anche per netti da Totti. Rise gli ha dato qualche indicazione. Forse Rise invece. Rise ha convinto Totti. Deve ricontare i passi nel Marco perché la barriera si è avvicinata moltissimo. Deve non vedrà. Rise! John Erne Rise! Che punizione! Fabio una punizione di prima. L'hanno voluta battere di seconda appunto per questo giocatore che è un sinistro micidiale. Incredibile. Anche sull'uscita incontro di Flamini ha lasciato partire veramente una botta imprendibile. per Dida. E attenzione perché vi voglio far notare una cosa. Guardate come batte all'indietro Pisarro sulla corsa. Leggermente indietro. Quando Rise è già partito. Quindi non dà il tempo. Due passi e sinistro. Che botta ragazzi. Perché non ha bisogno di tanta rincorsa Rise. Hai capito? Appena gliela tocchi lui è già subito lì. Parte leggermente prima e l'uomo che esce dalla barriera fa fatica. E poi la Roma. Sarà interessante vedere. I quattro del Minas. Più un giocatore della Roma. E Flamini che è uscito incontro. Come questo non ha fatto vedere la palla anche a Dida. E cinque forse erano tanti di ogni barriera. No. Beh sai. Sul tocco e tiro quattro più uno. Ci sta. Solo che si è messo di mezzo il giocatore della Roma che l'ha allungata ancora di più. Adesso protesta Beckham che vorrebbe un calcio di punizione che De Marco non dà. Poi l'accelerazione di Vucinic. Ancora Vucinic in velocità. Maldini all'indietro per Dida. Che risolve allungando un po' troppo per Flamini. Che slitta. Ma riesce ugualmente a dare pallone in avanti. Rise ancora però. E poi Beckham che arriva. Questo è il secondo gol di Rise che ha segnato tutti e due gol in Serie A fino adesso nella stessa porta. Che aveva segnato con l'Inter. Ti ricordi? Qui il fallo di Pisarro su Beckham. E qui ancora il sinistro di Rise. E non la vede partire. Ha ragione Dida. Pensavo fosse più angolata dal replay che avevo visto prima. È un po' più centrale. Tanto la Fiorentina sta pareggiando a 0-0. Ma vi dico che la classificazione comincia a diventare un po' preoccupante. Tre punti di vantaggio. Perché a questo punto la Fiorentina è a 68 e a tre punti la Juventus dovrebbe andare avanti. Insomma vuol dire che Fiorentina-Milano diventa uno spareggio se arrivano a questa distanza. Eh sì. Perché dopo il Milan mi sembra abbia vinto in casa 1-0 contro la Fiorentina. Sì. Però c'è sempre la possibilità di ribaltare gli scontri diretti. Pisarro. Taddei. Fallo di Taddei e calcio di punizione per il Milan. Alessandro Acciato da Bortocampo. Alessandro. Per segnalarvi che in questo momento siamo al quarto striscione di contestazione della curva del Milan per quanto riguarda la società alcuni anche abbastanza pesanti. Inzaghi in area di rigore. C'è un contatto. De Marco dice che si può proseguire. Inzaghi si arrabbia molto. De Marco ha fatto un gesto come a dire ma dai a Inzaghi. Totti di prima per Vucinic. Pallone un po' esterno. Rivediamo. Vediamo da dietro. Se lo tocca con le gambe. L'ha toccato leggermente sul braccio. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Ha fatto bene il Marco. Rise. Rise. Rise è attaccato. Perde palla ma subisce fallo. Calcio di punizione. C'è stato un contatto sul braccio ma non l'ha trascinato. L'ha appena sfiorato. Anch'io l'ho visto in questa maniera Fabio. C'è stato un leggero contatto e lui si è lasciato subito andare. Insomma l'abito qui in questa occasione visto bene. Nexess. Pisarro. Cambia passo. Pisarro lo insegue Cacà. L'apertura è per Taddei. Pisarro. Brighi. Vucinic. Totti. Questa volta si scontra Totti con la difesa del Milan. Anche in questo caso non sembra abbia visto bene De Marco. Prosegue il Milan. Cacà. Accelera. Cacà. C'è Pato che va. Servito troppo lungo da Cacà. Palla sul fondo e Cacà si dispera. Cacà secondo me è in apnea. Ha dovuto fare una rincorsa prima su Pisarro. È tornato subito in possesso del pallone. Guarda che fatica sta facendo. Ha visto il movimento in profondità di Pato. Ha cercato di servirlo. Ma non era lucido in quel momento. Lui a inizio e fine deve andare a disturbare Pisarro. Specialmente adesso che la Roma è in vantaggio. E la Roma è maestra a gestire il pallone. Soprattutto con il Cileno. Se non vai a disturbare non te la fanno più vedere. Pirlo cerca Pato in profondità. Non può arrivare Pato. C'è qualche mugugno nel pubblico del Milan. Adesso con questo risultato che sta maturando. C'è ancora tantissimo tempo. Però vede che la squadra fa fatica e stanca. Dopo le cinque vittorie consecutive. La partita con la Juventus. L'ha visto un Milan in calo. Ha battuto anche sotto l'aspetto fisico. A Udini è stato confermato. E oggi ancora. Maldini. Beckham. Ambrosini. Pirlo. Prova a cambiare tutto. Pirlo. Trova benissimo. Flamini. Alle sue spalle Beckham. Ecco il cross di Beckham. Juan lo mette fuori. Poi Taddei allontana. Maldini. Pirlo. Cerca il taglio di Flamini. Prova ad arrivare fino in fondo Flamini. Accelera. Grande pallone il suo per Kakà. Contatto. Poi Pato. E salvataggio di Motta. In calcio d'angolo. Fabio era Beckham che ha messo quella palla. Beckham sì. È l'unico che sta bene fisicamente. Già due o tre volte. Prima ha recuperato un pallone. Adesso una palla che sembrava fuori. L'ha messa con una... Molto morbida. Dove Pato è stato bravo a chiuderla. Ma Motta con coraggio ci ha messo la testa. Altro calcio d'angolo di Beckham. Primo palo stavolta. Mette fuori Taddei. Poi Totti che commette fallo su Jan Kuloski. Calcio di punizione. Non è scivolato Jan Kuloski. Beckham che è riuscito a mettere un gran pallone. Veramente una gran rincorsa la sua. Splendido il cross poi. Arriva Pato. E c'è il salvataggio di Motta. Pato. Traversione deviato da Brighe. C'è calcio d'angolo. Io dico una cosa. Piero adesso l'ho visto per un paio di azioni sulla sinistra. E' l'unico giocatore insieme a Pato che salta l'uomo. Io lo sposterò un po' più avanti. Arretterò Ambrosini. Pato sul secondo palo. Era saltato con i tempi giusti Ambrosini ma non ha trovato il pallone. Mexeschi richiamava Marco Motta. E' pronto a rinvio Arthur. 43 minuti nel corso del primo tempo. 1-0 per la Roma mangiante da bordo a campo. Angelo. Deve aver sentito Beppe Bergove, Luciano Spalletti. Perché sono alcuni minuti che dice i sottocampisti. Accorciate su Pirlo. Accorciate su Pirlo. A troppi metri di campo. Kakà prova ad accelerare. C'è sempre Beckham lì. Uno contro uno di Beckham. Poi comincia ancora da Kakà. Alle sue spalle c'è Pirlo. Kakà vuole il movimento di Inzaghi. Lo ha visto. Prova a servirlo. E' chiuso però. Poi lotta ma perde il contrasto. E poi colpisce involontariamente. Però alzando la gamba. Brighi. E poi si dispera. Un po' nervoso Kakà. Si dispera perché non c'è stato movimento davanti dei suoi. Qui con la punta della scarpa ha toccato al volto Brighi. E' vero. Ma è difficile fare movimento quando sei già sui 16 metri. Capito Fabio. Per le punte. Perché c'è poco spazio per andare in profondità. O fai un movimento incontro. Ma soprattutto la Roma difende molto bene in butto. Cioè nel centro dell'area di rigore. Ti permette magari di giocare sull'esterno. E Milan come è strutturato sull'esterno ci arriva poco. Ci deve arrivare con i difensori esterni. Però insomma devono correre parecchio. Rizè. Bello il gioco su Inzaghi. Pizarro. Cassetti liberissimo dalla parte opposta. Deve accorciare Iankulowski. E poi cerca subito Vucinic. Valdini con esperienza. Permette l'intervento di Vida. Beccan. Ambrosini. Iankulowski. Pato va via benissimo a Motta. Poi però torna su di lui Brighi. Ambrosini. Volevano l'apertura a Beckham che arriva con un attimo di ritardo. Beckham cerca ancora Kakà. Anticipato. Poi Motta bravo. Sempre Brighi è stato interrompere l'azione di Milan. Si fa vedere Totti. Ci sarà un minuto di recupero. Totti aspetta Pizarro. Poi serve Motta. Motta sull'arrivo di Pizarro a rimorchio. Movimento di Vucinic. C'è anche da dare la parte opposta. Pizarro non riesce a calciare perché si è opposto di Iankulowski. Ancora Totti. Motta. Questa è stata una transizione un po' lenta della Roma. Avesse velocizzato avrebbe liberato Taddei a sinistra. Rize. Prova il sinistro. Deviato. Vucinic. Era in posizione regolare. Era una grande occasione per il 2-0 della Roma. Sì perché prima sottolineavi la transizione un po' lenta. Ma sono stati bravi insomma tutti quelli del Milan ad accorciare molto bene e impedire la verticalizzazione. Però Roma ha dato continuità. Ancora adesso. Totti ancora cerca il pallonetto. Palla che si perde sul fondo. Non ci stava qui il pallonetto. Didara in porta. Qui Totti segnò un gol memorabile in quella porta con un pallonetto all'Inter. Però era una situazione di gioco assolutamente. Pato. Il pallone è aperto per Kakà. Rinsegue Mexes. Kakà tiene. Poi tocca il pallone per ultimo. Ci è rimessa dal fondo per la Roma. Movimento buono. Perché ripeto, quando la palla viene giocata esternamente su patto, quando viene prende una posizione largo a sinistra, Kakà deve fare questo taglio in profondità. Non ha saputo gestire bene la palla. Parla con Tassotti. Carlo Ancelotti. È pronto a rinvio Arthur. Cassetti. Poi Favalli. Favalli. L'arbitro dice che può bastare. Manda tutti a bere qualche litro d'acqua perché con questo caldo serve qualche fischio sul Milan. 1-0 per la Roma Superspot. Se tenderà ancora una volta la contemporaneità su tutti i campi, quanto mai importante, visto quello che sta succedendo. Intanto io vi assicuro che qui si respira veramente a fatica, fa un caldo atroce. Noi ce la resistiamo Fabio, loro sul campo sicuramente. Adesso è quasi tutto in ombra il campo, solo la fascia dall'altra parte. È in ombra soprattutto per gli attaccanti del Milan che hanno sudato tantissimo nel primo tempo. Alessandro Acciato da Bordocampo. Alessandro. Solo per farvi capire la situazione, rispetto all'esterno dello stadio dove ci sono più di 30 gradi sul campo, proprio perché è piuttosto chiuso lo stadio di San Siro, ci sono 7 gradi in più. Quindi siamo a 37. 37 accidenti. 37 accidenti al 24 di maggio. Mi dice Alessandro Ferrari che loro sono a 42 gradi dentro la regia, quindi è ancora peggio. Non hanno l'aria condizionata? No, non ce l'ha. È difficile per tutti. È pronta ad andare in Milan, sorride Totti che sta parlando con Ambrosini. C'è... Ecco Totti che ha scherzato anche con Inzaghi. C'era l'addetto della Liga che stava dando l'ok, infatti. E ricomincia la partita. Ricomincia il secondo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0. Ambrosini. Intercettato il pallone da Brighi, Totti cerca ancora Brighi. Ambrosini, Brighi però gli tocca il pallone in controtempo. Poi Totti. Allarga per Vucinic. Veramente aveva allargato per Taddei, ma Vucinic comunque ha toccato il pallone. Cassetti. Rientra Cassetti con il sinistro, prova a mettere un pallone interessante dentro. Taddei non aveva tagliato sul primo palo. Quindi come Flaminé rimane sempre molto basso, non segue la linea dei due difensori centrali. Poi qui ha coperto bene con il corpo la traiettoria, ma è sempre lui che tiene in gioco l'uomo, come avevamo visto prima in precedenza sul tiro di Vucinic. E deve stare soprattutto attento quando gli partono alle spalle. Adesso parte Pato alle spalle di Motta, che ha cercato l'anticipo. Il pallone però è lungo e si perde direttamente in fallo di fondo. Sembra un po' preoccupato Ancelotti. Il Milan ha corso pochissimo nel primo tempo. Sono due partite che fa fatica sotto questo aspetto. La partita con la Juve, in particolare. Adesso il Milan ha rischiato, mi sembra. Quattro difensori, due centocampisti centrali, Pirlo Ambrosini in linea, Sedorf dietro la punta che è in zaghi, Pato da una parte e Cacca dall'altra. Quattro due tre uno, sì. Cerca l'anticipo Ambrosini. Pizarro. Rize. Colpisce Cacca. Il pallone termina in fallo laterale, rimessa in gioco per la Roma. Rize ha un centro in intesa con Taddei, verso il quale era indirizzato il passaggio che è stato ribattuto da Cacca. Totti. Lascia passare il pallone, Totti e salta due uomini. Poi cerca Vucinic in profondità, Favalli la tocca appena, ma favorisce l'intervento di Maldini. Sì, saltati tutti e due, sia Pirlo che Ambrosini, che non si sono dati copertura. Ma lì è stata veramente un'intuizione di Totti. Finta di corpo e poi palla a girare. Flamini. Con le mani per Pirlo. È intercettato Taddei, ma solo per un attimo. Flamini. Cacca era, tra l'altro, forse anche in fuorigioco. Comunque il pallone termina in fallo laterale, rimessa in gioco per la Roma. Un po' di perplessità dei tifosi del Milan, che sono accorsi tantissimi, in tantissimi, a salutare Maldini. Praticamente è tutto esaurito. È tutto esaurito, perplessità, qualche fischio. Qualche fischio, anche di paura di non poter raggiungere un risultato del secondo e terzo posto, che sembra che questo momento stia sfuggendo al Milan. Pato, tocca per Sedorf, Rize, Motta. Cassetti, chiuso da Ambrosini. Ianculoschi si impegna e riesce a mantenere il pallone in campo. Favalli, Pirlo. Klaren Sedorf. Flamini. Cacca. Cerca un barco. Fermato Cacca dal tocco di Taddei. Non c'è neanche rimessa da fondo. Non c'è neanche calcio d'angolo, c'è semplice rimessa da fondo. Bravo Taddei a andare in raddoppio da dietro. Gli tocca la palla. Non so se lo va a toccare anche con il piede destro di Cacca. Ha toccato la palla Taddei, poi ha toccato il piede destro di Cacca. Da vedere se poi Taddei, che aveva ritoccato il piede di appoggio di Cacca, aveva commesso palla. Angelo Mangiante dal protocampo, Angelo. Infatti Spalletti ha letto bene anche le nuove posizioni del Milan, perché non c'è più Beckham su quella fascia, ma Taddei comunque deve sempre dare una mano a Riese. Però perché adesso lì in quella zona staziona Cacca. Eccolo lì, Taddei di nuovo lì. Sempre Cacca che prova a passare sul passo di Riese, che lo ferma, poi scivola. Prende un colpo. L'arbitro fischia calcio di punizione, aveva preso un colpo da Flamini, però era scivolato, stava cadendo e il colpo l'aveva preso per questo. Guardate qui, è scivola, perde il tempo e va lui a toccare Flamini. Secondo me qui il fallo poteva anche non essere. No, non c'era. Però sai, qui può anche essere capito, perché sulla dinamica dell'azione c'è stato questo contatto tra i due giocatori. Preziosissimo ancora Taddei. Taddei deve fare un grande lavoro, perché Cacca adesso qui ogni volta che prende palla va a puntare. Lui fino adesso nelle due volte sempre molto attento e bravo nel raddoppio. Flamini, Maldini, Favalli, Pirlo, Sedorf, Pirlo, Ambrosini, Sedorf, Iankulowski, migliorata la circolazione della palla con l'ingresso di Sedorf, Pato. Prova ad andare via, il tocco è di motta, c'è calcio d'angolo per il Milan. Perché riesce a tenere la squadra un po' più larga col 4-2-3-1, Cacca da una parte, Pato dall'altra, cerca di dilatare la difesa della Roma e davanti con Inzaghi, che deve collaborare di più con Sedorf, perché quando prende palla lo deve cercare. Pallone verso Ambrosini, colpo di testa di Cassetti, Iankulowski. Tenta un altro traversone Pirlo, ribattuto da Pisaro, rimesa laterale ancora per il Milan. Sedorf Poco movimento, Sedorf è costretto a ricominciare da capo. Favalli Pirlo riesce ad andare via, arriva al traversone con il sinistro che attraversa tutta l'area di porta. Dalla parte opposta arriva Cacca, sempre rise uno contro uno. Sedorf, Cacca. Ambrosini ancora in area di rigore che chiede il pallone, che arriva, Juan lo mette fuori. Iankulowski non aggancia, Totti. Con il tacco Totti ma non c'è nessuno che abbia seguito, la Roma è un po' rintandata l'indietro. Maldini spinge il Milan adesso. Il pallone ancora per Ambrosini, cerca un corridoio e non lo trova. Sempre Totti. Va via Totti, trattenuto vistosamente da Ambrosini. Calcio di punizione, giallo per Ambrosini. Totti aveva alzato gli occhi, c'era Bucinic libero dall'altra parte del cambio. Un cambio di gioco avrebbe messo in difficoltà il Milan. Ma intelligentemente si era posizionato sull'esterno. Poi il rimpallo, la palla è capitata proprio a lui e poi dopo portargli la via diventa difficile. Ha messo il corpo tra palla ed avversario e Ambrosini è stato costretto a commettere fallo. Calcio di punizione per Mexes. Totti. Pizarro. Alza un pallone difficile per Tadega e non lo può controllare Alessandro Ciatolo a bordo campo. Alessandro. Frase testuale di Carlo Ancelotti. Quanto mi fa arrabbiare Ianculoschi e subito ha detto a Zambrotta di scaldarsi. Seedorf passa la grande alle spalle di Riese e poi cerca il suggerimento per Kakà. Kakà voleva la palla addosso. E lì doveva dargliela. Mi spiace dirlo perché Perseedorf però non ci stava il giocato in profondità. Ma Kakà stava arrivando in corsa. Giusto sui piedi andava dentro l'area. Attenzione perché la Fiorentina sta perdendo a Lecce. Ha segnato tiri bocchi. Questo per il Milan è una notizia importante. Ambrosini. Perché il Milan non è più a tiro della Fiorentina. Rimangono sempre quattro punti. Pato messo giù. Calcio di punizione per il Milan. E giallo anche per Motta. Un po' chiamato dal pubblico. Sì, sì. Primo passo devastante di questo ragazzo. Guarda, vedi, pum, ti salta sempre. Va sempre via verso l'interno. Trasvenuta c'è giallo giusto. Sedorf, Pato, Inzaghi che parte da fuori gioco. Ambrosini e Kakà in area di rigore. Ora Juan prende Inzaghi. Pallone verso Arturk. Lo respinge con i pugni. Maldini prova a rimetterlo in mezzo. Sedorf lo controlla. Si gira in area di rigore. Lo ha fermato Taddei. Poi Pizarro riesce ad allontanare. C'è un contrasto con Flamini che dice di aver toccato il pallone. Ma il pallone mi sembrava l'avesse toccato Pizarro. Giusto, giusto. Il pubblico protesta però è Pizarro in anticipo con la punta. E poi fallo di Flamini. Arriva Flamini. Caccia di punizione per la Roma. Nonno minuto di gioco. Sempre una zero per la Roma. Gol di Rize. C'è una Roma che fa fatica adesso a proporsi in avanti. Sì, a uscire anche. Infatti, i primi minuti del secondo tempo il Milan sta cercando di imprimire un ritmo diverso. Cambiando anche il sistema di gioco. Adesso vi sottolineo una cosa che si è vista benissimo in panchina. Avete visto che Ronaldinho si scalda e cerca il contatto con gli occhi e con Ancelotti. L'hai visto? No, no. Continuava a scaldarsi lì sotto. Faceva movimento e guardava Ancelotti. Cassetti per la Roma. Molto bene per Vucinic. Liscio di Vucinic. Caccia. Sedorf. Flamini. Maldini. Deve ricominciare da Favalli. Biancoloschi aperta a sinistra. Pato Largo. Sfida Cassetti. Riesce a saltarlo ma si porta secondo me il pallone in fallo laterale. Infatti è così. De Marco dice che la rimessa in gioco è per la Roma. Dieci minuti nel corso del secondo tempo. Ha avuto un buon avvio di secondo tempo il Milan rispetto alla prima frazione di gioco. La Roma invece è un po' chiusa all'indietro. Ambrusini. Pirlo. Prova a calciare da lontano. Artur attende il rimbalzo del pallone. Fa suo. E lo fa suo. Mexes. Cassetti. Totti all'indietro. Brighi. Totti. Cettadei aperto. Si fa vedere ancora Totti. Il pallone passa da Pizarro. Sedorf fa dargli fastidio. Riesce a portargli via il pallone. Poi una grande giocata di Clarence Sedorf. Ancora Sedorf. Chiama in avanti Pirlo. Si fa vedere Ambrusini. Si fa vedere Largo Pato. Chiede palla anche a Cacà addosso. La riceve. A largo per Flaminì. Dentro c'è Inzaghi. Sedorf. Ancora Sedorf. Pizarro riesce a toccargli il pallone. Poi il contrasto. Concede rimessa laterale alla Roma. Si deve prendere dei rischi. Chi li prende? Quasi sempre Sedorf. Nell'uno contro uno. Puntare l'uomo. Agli altri tutti fermi. Pato rimane sempre molto largo a sinistra. Anche in queste situazioni dove la palla è a destra. Deve secondo me cercare di avvicinarsi soprattutto a Inzaghi. Per provare qualche taglio. Allora diventa difficile trovarlo Inzaghi. Ambrusini c'è fallo di Brighi. Si prosegue per il vantaggio. Sedorf al limite dell'area. Si fa vedere Inzaghi. Scivola qua. Non ci arriva. E poi... E poi tocca Inzaghi che si arrabbia. Rivedremo naturalmente. La Roma dalla parte opposta. Vucinic. La mette giù. Di petto Vucinic. Maldini lo porta sull'esterno. Vucinic tiene il pallone in campo. E' arrabbiato Inzaghi. Vediamo. E' scivolato qui Quann. Liscia il pallone. Allora io qui ricordo. Lui è con la gamba lì. Prova a toglierla. Inzaghi lo prende. Non lo guarda nemmeno. Non lo guarda nemmeno. Non lo guarda nemmeno. Allora ricordiamo che non è che è sempre rigore ogni contatto. Qui la gamba è ferma. Deve esserci eccesso di foga. Imperizia. In questo caso è scivolato. Rimasto con la gamba lì. Un tocco c'è stato però mi sembra Fabio. L'unica cosa è che tiene la gamba un po' alta Quann. Cassetti. Fermato. Pisarro. Cercava l'apertura per Totti che si dispera perché doveva arrivare prima il pallone. Kakà. Possibilità per il Milan. La partita adesso si riaccende. C'è Cassetti a terra dalla parte opposta ma i giocatori del Milan non lo possono vedere. Motta. Adesso Motta alza la testa. Totti con De Marco che ha fermato il gioco. Una situazione un po' a limite quella del calcio. Quella di Inzaghi perché lo rivista dopo nell'altro replay. Tiene la gamba alta Quann. Tiene la gamba un po' alta Quann. Tiene la gamba alta e ci poteva anche stare sai alla fine. Angelo Mangiante da Bortocampo. Angelo. Ha preso un colpo molto forte David Pisarro al costato. Nella parte destra del costato. Adesso lo sta toccando il medico della Roma. sente molto dolore. Volevo aggiungere che Spalletti si sta sgolando perché adesso ha un po' paura di questa accelerazione di Inzaghi. Non vuole che venga lasciato solo anche perché Quann non ha i 90 punti sulle gambe. Non gioca una partita da due mesi e mezzo. Sta facendo scaldare Diamotene perché anche Quann potrebbe avere dei problemi. La tiene un po' alta. La tiene alta Fabio. Degli ultimi due replay mi sono venuti molti dubbi rispetto al primo. oppure Mari non lo fa neanche apposta ma nel gesto di andare a prendere la palla. La gamba rimane alta e Inzaghi tenta ad andare e va a incocciare sulla gamba. Quindi questo è rigore Fabio. Entrerà Zambrotta per Iankulowski. È pronto anche Digno. Per Pato. Non bene Pato. Ha tolto Pato. Adesso lo toglie Verdigno. Non è molto convinto il pubblico di questo cambio. Senti Fischi. Però se metti dentro Ronaldinho chi vai a togliere? O Kakà o Pato. A limite potevi, non so, togliere uno dei due centrocampisti. Ma ti vai a scoprire troppo. Dovevi arretrare Sedorf. Intanto toglie anche Iankulowski e mette Zambrotta. Dovevi arretrare Sedorf in mezzo ai due. Tra i due potevi levare Ambrosini. Fare Pirlo Sedorf. E poi Kakà trequartista. Ronaldinho a sinistra e Pato a destra. Questo diceva una soluzione. Super, super offensivo. Super offensivo. Io Pato l'avrei tenuto in campo ancora 10 minuti. E quindi non ci sarà il minuto di giro di campo di Maldini alla fine. O ci sarà a fine partita insomma. Non per una sostituzione. Gioca fino alla fine della gara. Kakà per Maldini. Arriva il traversone di Maldini su Arfi. Motta. Sedorf. Pirlo. Sempre Pirlo. Prima palla per Zambrotta. Arriva il traversone con Ronaldinho che prolunga. Arthur. E poi Pirlo sul fondo. Grande palla gol per il Milan. Chiede il cambio Cassetti. 16 minuti 1-0 per la Roma. Si è fatto male anche Arthur in questa uscita. Di fatti chiede l'intervento del medico. Non ho capito come si è fatto male. In uscita. Qui. No ma non prende golpi. Uscita un po' avventurosa di Arthur lì. Si è tolto anche il parastinco. Non sembrava ci fosse stato contatto in quella zona. E' ancora a terra. Arthur andiamo da Alessandro Ciallo. Alessandro. Per raccontarvi un clima veramente strano qui a Bordocampo. Ovviamente non mi riferisco alle condizioni atmosferiche. Doveva essere la festa di Paolo Maldini. C'è la contestazione del pubblico e la società. Poi ci sono stati i fischi alla squadra quando usciva. Poi ci sono stati altri fischi quando è stato sostituito Pato per Ronaldinho. Carlo Ancelotti è stato arrabbiatissimo per tutto il primo tempo. E adesso praticamente non parla più. E' un clima veramente strano. Vi devo dire che quest'anno, insomma, vivendo il Milan da Bordocampo, forse è la prima volta che succede in maniera così forte e in maniera così evidente. Abbiamo visto anche Gattuso perplesso. Tanto abbiamo visto se era fatto male alla caviglia sinistra. Gli aveva un po' girato Arthur. Esce anche Cassetti. Al suo posto entra in campo Filipe. Filipe giocò da titolare la partita con la Juventus. Era una Roma in straordinaria emergenza. Vediamo dove si va a posizionare. Taddei è andato a destra. Filipe a sinistra. Anche se va a stringere un po' la sua posizione. Stacca di testa Ambrosini. Poi Inzaghi la mette giù per Kakà che prova ad accelerare. Riese in anticipo. Ci sarà rimessa laterale per il Milan. Pronto a rimettere in gioco Flamini. Pirlo. Maldini. Favalli. Ronaldinho. Contenuto da Motta. Poi torna sul pallone ma comette fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione. Pallone. Ecco l'intervento ai danni di Brighi. Non è convinto Digno. Angelo mangiate da Bordocampo. Angelo. Guarda il caldo ha lasciato i segni su cassetti. È uscito per un colpo di sole. Sta tremando tutto e avverte anche dei brividi di freddo. Ronaldinho. Sedorf. Pallone per Kakà. Riese con decisione. Palla in fallo laterale. Dopo un inizio difficile di stagione Riese da quando si è ambientato è diventato un punto di forza strepitoso per la Roma. D'accordissimo. Maldini. Maldini cerca l'apertura per Kakà. Vuole palla in zaghi. Arriva il traversone. Riese lo tocca. Bucinic. In controtempo Filipe. Riese. Batte profondo a cercare Totti. Bucinic. Cerca una giocata Bucinic. Aveva Totti davanti tutto solo. O Taddei dall'altra parte. Più forma che sostanza oggi per Bucinic. Però adesso Ronaldinho. Più ricerca della forma più precisamente che sostanza. Kakà. Pirlo. Kakà. Si libera e pronto attraversone. Kakà contro Riese ancora. Kakà. Il traversone. Sedorf. E palla che attraversa l'area di rigore. Termina in fallo laterale dalla parte opposta. Buono però nei tempi l'inserimento di Clara in sedo. Sì per il Milan sfruttare le corsie esterne soprattutto con Kakà. Perché va a puntare sempre l'uomo. Riese se non ha il raddoppio. Riesce a contenerlo non sempre. E qui sull'inserimento centrale di Sedorf che non riesce a trovare la giocata, la porta. È messa per il laterale per la Roma al ventesimo. Taddei. Palla per Totti che passa davanti a Favalli. Totti di potenza ma commette fallo. Calcio di punizione per il Milan. E non era una palla facile da gestire per Favalli perché non poteva controllarlo che era lunga. Quindi sul rimbalzo Totti gli è passato davanti. Però penso che abbia interpretato bene l'arbitro. Kakà. Rientra Kakà. Poi trova Sedorf ancora l'inserimento in Zaghi. Sedorf li porta via palla. Sedorf ancora cerca un rimorchio. Odigno in ritardo. Taddei ma adesso spinge il Milan. Hai detto giusto. Ronaldinho in ritardo. Quando vuoi andare a chiudere sul secondo palo? Sedorf sta giocando veramente bene. Ancora Sedorf per Flamini. Palleggio. Flamini tra l'altro al papà che è nato a Roma. Maldini. Cerca Sedorf. Pallone troppo lungo e palla sul fondo. Juan dice che ha finito. Non ne può più. Qui Sedorf. Cerca Ronaldinho che si fa anticipare e chiudere da Taddei. Non sembra felicissimo il presidente Berlusconi a fianco di Gagliani. Giallo per Artur. Perdita di tempo. E' pronto Diamutin. Colpo di testa di Pizarro. Poi colpo di testa di Flamini che casca male ma non si è fatto male. Si è rialzato, ha preso una botta all'anca, alzopica leggermente. Ambrosini. Zambrotta. Cordoglio per Digno. Taddei lo aspetta. Digno con la suola. Digno ancora lo sfida. Poi la palla tagliata con sueta sua. Però un po' lunga che termina sul fondo. Difficile. Deve rischiare qualcosa di più. Non può limitarsi a rientrare e mettere questa palla sul secondo palo. Sia Kakà che Inzaghi. Inzaghi è sempre molto svelto, rapido dentro l'aria. Kakà su queste palle che arrivano di testa non è eccezionale. Colpo di testa di Flamini. Filipe. Chiede palla a Vucinic. Filipe riesce a passare su Pirlo. Ancora Filipe. Cerca Totti. E' arrivata la chiusura di Zambrotta. La voleva prima Totti. La voleva prima Totti. Bravo Zambrotta. Siedorf. Kakà. Intanto la Roma ha cambiato il cambio. Dove entrare Menense. Invece entra Diamutent. E poi andremo d'Angelo Mangiante. Diamutent perché Juan ha fatto segno che non ce la fa. Siedorf. Kakà. Rientra Kakà. Palla sul sinistro. Arthur. Cosa ha preso Arthur? Incredibile Fabio. Sempre criticato questo portiere. oggi ha fatto due parate splendide. La prima su Pato nel primo tempo e questa clamorosa su Kakà. E ha sfruttato il movimento. Il taglio di Siedorf è potuto rientrare. Calciare a giro con il mancino. Grande Arthur. Grande anche la conclusione di Kakà. Andava dritta all'incrocio. Ronaldinho. Maldini non riesce a far proseguire la traiettoria del pallone. Ancora Digno. Sempre uno contro uno. Digno. Prova a passare. Ce la fa. Digno. Ancora passa. Due uomini. Digno. In area di rigore. Insiste ancora. Digno. Palla mette sul secondo palo. Ambrosini. Arthur la smanaccia. È un gran secondo tempo del Milan da dieci minuti. A questa parte gioca forte. Questo deve fare Ronaldinho. Puntare. Andare sul fondo. Poi dal fondo la metti dietro. Arrivano i saltatori come Ambrosini. Ancora attento una volta Arthur. Ecco il cambio. Angelo Mangiante dal portocampo. Angelo. Sì. Ai crampi Juan non ce la faceva davvero più. Ma è curioso. E quindi entra Diamutene come avevo anticipato. Ma è curioso il fatto che Menesse per due volte stava per entrare. Sempre al posto di Vucinic. Prima il colpo di sole di Cassetti. E quindi Filippe. Adesso i crampi di Juan. Resterà solo una sostituzione per Spalletti. E non è detto a questo punto che entri Menesse. Complimenti dei compagni a Digno per la grande azione da quella parte. Cacà. Vucinic. Pizarro. Vucinic. Flamini. Vucinic. Secondo me Guardalini ha segnalato un fallo di mano di Flamini. Calcio di punizione per la Roma. Pronto a battere Riese. C'è stata una bella reazione del Milan. No, il Milan nel secondo tempo avrebbe sicuramente meritato il pareggio. Insomma c'è stato un calcio di rigore non dato. Altre situazioni importanti dove il Milan non ha trovato il gol veramente per pochissimo. Parate di Arthur. La conclusione di Pirlo da fuori area che non ha trovato la porta. L'inserimento di Seedorf. Sicuramente un altro Milan. Pirlo se ne accorge il pubblico che spinge adesso. Anche la Roma esce con meno frequenza e fa più fatica. Il pallone è gestito da Zambrotta che vuole il fondo. Zambrotta ancora in mezzo a tre. Ribattuto il suo tentativo. Ambrosini non se la sente di calciare. Poi Pirlo. Altro corridoio. Inzaghi chiuso da Diamutene. Maldini. Kakà. Spalletti in piedi che ha la squadra di uscire un po'. Il traversone di Kakà. Per Ambrosini. Prolunga motta. Ambrosini la mette giù. Si gira bene. Poi vuole Pirlo ancora. Pirlo per Kakà. Destro ribattuto. Flamini scivola. È in posizione regolare. La mette in mezzo. Mexes. Poi Pisarro che allontana un assedio adesso. Colpo di testa di Favalli. Filippe. Arriva Ambrosini. Filippe con buona scelta di tempo due volte. Totti. Tiene palla. Fa respirare un po' la squadra Totti. Filippe. Seedorf non controlla. Taddei. Va Ronaldinho a dargli fastidio. Motta. Pisarro. Fallo di Seedorf. Calcio di punizione per la Roma. Si qui è stato intelligente Totti. Non fa ripartire subito l'azione. Non servendo Vucinic. Ma tenendo palla e aspettando la squadra che salisse. Poi cambio di gioco. È arrivato il fallo. Servito Taddei. Cerca la profondità Taddei. Si porta il pallone oltre la linea bianca. Ci ha rimesso il laterale per il Milan. Maldini. Da Flamini a Kakà. Riese lo aspetta. Lo insegue. Seedorf. Zambrotta. Digno. Ancora Zambrotta. C'era forse fallo su Digno. Calcio di punizione. È giallo per Taddei che si era nervosito nell'occasione precedente. Sta protestando e sta rischiando Taddei per l'intervento precedente su di lui. Non per questo. qui fallo è netto su Ronaldinho. Inzaghi, Seedorf, Kakà, Ambrosini, Maldini e Flamini. Tutti in area. Tutta la Roma in area. Calcio d'angolo nel mucchio. Ancora Motta che mette in calcio d'angolo. Mexes protesta con i guardalini e riteneva che ci fosse fuori gioco di un giocatore del Milan. Forza Inzaghi. Ancora Digno dalla banderina. Ecco Digno con Kakà che prolunga. Ha toccato Rise. Sempre Kakà. La mette all'indietro. Pisaro controlla e lontana. Totti allontana a sua volta con il sinistro. Subisce il fallo di Zambrotta che chiede subito scusa. È stato prima. Milan non è molto pericoso sul calcio d'angolo. Però Kakà, quando è andato fuori in contro, è riuscito a spizzare questa palla. E poteva diventare più pericolosa. Filipe. Lotta ma perde palla sull'attacco di Pirlo e poi di Flamini. Maldini. Ambrosini. Digno. Ambrosini. Zona tiro. Ambrosini lo prova. Schiacciato. Facile per Artur. Taddei. Filipe. Pizarro. Totti. Accompagna con grande fatica Vucinic. Filipe. Totti. Cerca ancora Vucinic. Buono il pallone. Vucinic controlla e poi cerca il tiro al volo di sinistro. Ribattuto da Favalli in calcio d'angolo. Era una buona conclusione quella di Mirko Vucinic. Anche se Totti non ha più una grande mobilità in questa partita. Però l'intelligenza Fabio va sempre sugli esterni a prendere questa palla. Effettivamente rischiano ad attaccare. Lui prende palla. Fa salire la squadra. Poi qui ha dato una palla in profondità molto bella per Vucinic. Ma sta giocando con grande intelligenza. Da Totti il pallone per Filipe. Totti. Rise. Cerca ancora il sinistro ribattuto da Zambrota. Arriva Inzaghi. Diamo Ten con un fallo. Calcio di punizione. De Marco non l'ha ammonito. Siedorf per Kakà. Ha un po' di campo. Si fa vedere Inzaghi che vuole un taglio. Lo seguiamo Ten. Kakà va via in velocità. Ancora Kakà per Inzaghi al volo. Arthur Inzaghi e poi Massimo. Ambrosini. 1-1. La Roma che si è fatta sorprendere su una situazione di giocata da fermo. Sono rientrati lentamente. Non hanno chiuso su Kakà che nel secondo tempo ha cambiato sicuramente il volto giocando largo a destra. Lui va sempre a puntare. E poi arriva ancora. Secondo me qui Arthur la voglio rivedere forse poteva tenere quella palla. L'ha ribattuta. Ed è stato Ambrosini bravo a rimorchio a metterla dentro. 1-1 con gol di Ambrosini. Ecco qui il replay. Kakà che va dentro. trova Inzaghi Arthur non granché e poi Ambrosini che lo fulmina. La poteva tenere forse. Ma sì la palla gli è rimbalzata davanti. Allora al limite non la devi respingere centralmente la devi allungare sull'esterno dall'altra parte. Lo poteva fare sicuramente. Tako sta perdendo anche il Palermo per 2-1. Quindi non cambia niente. Si sta incastrando tutto bene per tutte e due le squadre. 31 minuti di gioco. Eccolo Menes per Vucinic. Jeremy Menes che anche Burkouf al primo anno in Italia aveva avuto problemi con il Milan l'anno scorso. Quest'anno ha fatto un campionato con il Bordeaux strepitoso. Lo sta portando alla vittoria. 2-2 del Palermo intanto. Quindi resta a tiro il Palermo. A due punti, sì. 58 la Roma e 56 il Palermo. L'Udinese stava perdendo poi piano piano arriveranno gli altri aggiornamenti. Kakà cioè rimesso dal fondo. Inzaghi è arrabbiatissimo. Forse l'aveva toccata. La tocca, la tocca, la tocca. Però com'è cambiato Kakà in questa posizione? Sì, all'ombra. No, è così. No, però prende palla non è più cioè schiena alla porta la prende ti va sempre a puntare allora veramente ha cambiato la partita. Sai che si scherzava sul poeta del gol Claudio Sala che dicevano sempre non gioca a destra a sinistra gioca all'ombra. Anche Mariolino Corso diceva. Però Mariolino Corso è stato un grandissimo. Pallone buono intanto per Menes Totti si fa vedere Menes uno contro uno Menes in area di rigore Menes ancora! e salva Pavalli che poi esulta. Esulta perché l'ha mandato dove voleva lui sul piede Mancino che dall'altra parte c'era Totti mi sembra che stava arrivando vedi lo manda dove vuole lui poi non si accorge del raddoppio dietro ma al momento giusto va a chiudere. Tra l'altro sta protestando tutta la banchina di Milan perché c'era stato un fallo dal quale secondo Milan dal quale era generato il controvedere da Roma. Non lo so No, io l'ho detto solo a professore Sì, sì, no, no Caccio di punizione per Pisaro Dita Rischia Sudiamo Temi 33 minuti di gioco Cacca Flamini Ambrosini Pallone gestito da Zambrotta Ronaldinho uno contro uno di Ronaldinho c'è Cacca dalla parte opposta ancora Cacca con il destro ribattuto poi prova a uscire Taddei per la Roma Taddei cerca Totti che era andato in profondità Taddei l'ha cercato invece per l'appoggio facile Favalli dentro per Digno posizione regolare Digno in area di rigore Digno Diamuten su Digno è stato bravo a tenere uno contro uno dentro l'area di rigore allungato il piede anche fortunato ma bravo bel finale di partita Taddei questa è una partita discreta Tunnel su Ambrosini Pisarro Menes Totti Digno che li porta via il pallone va via ancora Ronaldinho poi il pallone per Sedor ancora Ronaldinho chiama in avanti Pirlo uno contro uno di Pirlo perde il tempo e alla fine lo ferma Taddei Pisarro si fa vedere Riese il pallone per lui c'è Menes che va in profondità servito da uno splendido appoggio di Riese Menes 2-1 come sono ripartiti no ma Riese ha dato una palla con quel sinistro dentro perché bisogna avere i giri giusti per la palla precisa e perfetta insomma una Roma attenta in fase difensiva un Milan che ha fatto fatica a ribaltare l'azione invece la Roma con tre passaggi è arrivata a concludere stavolta Favalli ancora ha tentato la stessa situazione di prima ha tentato di mandarlo sul mancino l'ha mandato lì però era in inferiorità numerica vedi qui Riese per questa palla splendida perché giustamente lui se va a chiudere subito Menes la può dare a Riese che arrivava dall'altra parte tutto solo però qui riesce a calciare bene ad incrociare sul secondo palla vedi qui si vede bene che Riese era tutto solo dall'altra parte 2-1 per la Roma che torna in vantaggio al 35esimo e adesso deve reagire il Milan che ha comunque giocato a un buonissimo secondo tempo Ambrosini Digno Pirlo Sedorf si libera Sedorf poi apre per Cacà la mette dentro ancora Cacà Massimo Ambrosini 2-2 che partita Fabio incredibile tutti in linea i giocatori della Roma però non hanno seguito l'inserimento di Ambrosini adesso vedremo a me sembrava regolare la posizione perché arrivava da dietro però ancora una volta è sempre Sedorf che va a puntare l'avversario riesce a scaricare su no forse era fuori gioco forse era fuori gioco era al limite non abbiamo la linea ma il replay di prima il replay di prima sembrava leggermente avanti 2-2 con doppietta di Ambrosini 36 minuti di gioco ecco stiamo vedendo noi un altro replay che voi non vedete secondo me poteva essere regolare la posizione di Ambrosini perché c'è la gamba di Riese che lo teneva in gioco vero Beppe? sì sembrava così ve lo dico chiaramente io ho anche il monito di diretta gol noi a Sky abbiamo fatto questa non è una partita produttiva da noi abbiamo fatto un fermo immagine su diretta gol sulla posizione di Ambrosini e sembra che la gamba di Riese lo tenga in gioco da quello che si è visto in quella quadratura sembrava regolare eccola qua vedete? la gamba di Riese sembra avanti rispetto a quella di Ambrosini giusto? sì sembra avanti al corpo anche di Ambrosini anche al corpo sembra avanti è il limite Meness in area di rigore Meness prova a passare in mezzo a due alla fine viene fermato che impatto di Meness sulla partita sì il fresco è andato subito ad attaccare la linea 4 del Milan abbastanza statica ma capibile anche perché hanno hanno speso molto Riese Pisarro l'immagine che avete visto è della nostra integrazione quella del fermo immagine Taddei diamo Uten la Fiorentina perde ancora una 0 a Lecce 38 minuti lì in corso Taddei Taddei passa ancora il pallone per Brighi che commette fallo calcio di posizione per il Milan e Brighi protesta con De Marco e ha ragione perché era lui davanti era lui davanti guarda è lui davanti veramente terna arbitrale non granché oggi ne hanno presa uno no Artur da una parte e dall'altra sì sì nel primo è la Roma un po' più danneggiata però bisogna dirlo che nel primo tempo però c'è quella cosa sul rigore del Milan anche del rigore sono stati tanti episodi che uno si dimentica hai ragione e c'era quello di Pucinici del primo tempo quella su Totti anche Totti e Menes Menes con Totti che fa movimento Menes si libera fallo di Ambrosini calcio di punizione e qui l'arbitro sorvola su Ambrosini diciamolo è pronto Totti a battere il calcio di punizione poteva ammonirlo dici ed era già stato ammonito guarda è pronto a battere ancora Totti con vicino Pizarro Menes 39 minuti in una bella partita in questo secondo tempo ma anche nel primo sì non ritmi altissimi però le giocate di qualità insomma le due squadre ce le hanno proposte sono arrivate anche 4 gol e tante altre occasioni da rete un po' alla spagnola direi questa partita ritmi non elevatissimi però giocate raffinate qualità tecniche e la Roma che si chiedeva ancora di seconda a questa punizione insomma un po' strano perché è di prima però Pizarro si allontana può calciare lui di prima giro sopra la barriera Mediotti si avvicina adesso invece si avvicina a Totti c'è Ronaldinho che si è avvicinato Totti Francesco Totti 3 a 2 incredibile punizioni di prima a 20 metri li toccano di seconda con la possibilità di andare ad accorciare ma hanno dei battitori prima rise adesso Totti a trovare l'angolino su un palo di Dida non lo so voglio rivedere male la situazione da dietro secondo me ha fatto il passo Dida perché è stato sorpreso su una palla bassa vedi sì pass assolutamente ha sbagliato tutto doveva star fermo dall'altra parte l'avrebbe presa questa palla ricorderete che Totti segnò addirittura tre calci di punizione al Milan in due partite in finale Coppa Italia qualche anno fa e il decimo gol di Totti contro il Milan poi vabbè le statistiche su Totti possiamo allungarle perché insomma colpo di testa di Diamutena ancora Totti Pisarro parte di nuovo parte di nuovo menes cerca la profondità arriva tranquillo Dida la Fiorentina sta sempre perdendo quindi il Milan resta a 71 la Fiorentina a 67 quindi in questo momento è ancora il Milan tranquillo di avere l'aritmetica certezza di arrivare in Champions senza passare dai preliminari tra l'altro il Lecce di là si sta giocando la possibile salvezza perché gli altri pareggiano tutti ma a 32 e rientra incredibilmente è vero Pisarro Totti 41 minuti Brighi Taddei Totti si è inserito ma il pallone arriva in ritardo c'era fuori gioco è uscito comunque Dida se il Palermo continua anche a pareggiare a Bergamo e la Roma con questo risultato la Roma è andata e questa è una buona notizia per il Torino più che altro non che la Roma la regali però insomma comunque se giochi per vince o se giochi senza stimoli lo sappiamo benissimo sono due partite diverse Traversone verso Ambrosini stacca di testa Mexes poi arriva Kakà Sedorf Kakà Sedorf Sedorf con il sinistro era sbilanciato ha calciato male ci ha provato ha puntato due uomini ha avuto un rimpallo favorevole poi anche lui adesso sta accusando un po' la stanchezza diciamo anche che il Genoa sta pareggiando due a due a Torino questo tanto per non c'erano sorridere tutte le supposizioni sono gemellate poi se la giocano non c'è poco da fare l'esultanza di Totti per il suo calcio di punizione Angelo Mangiante da Bordocampo e l'esultanza a Fabio anche lunghissima di Vito Scala e Bruno Conti che sono abbracciati perché adesso Totti ha un solo gol da Boniperti e tra l'altro vederlo così in questa sauna ancora correre al novantesimo insomma suscita davvero qui grande ammirazione sulla panchina della Roma intanto annullato un gol al Palermo Cacà bravo tienimi d'occhio di Antti Sedorf uno contro uno di Sedorf all'indietro del pallone per Zambrotta vuole liberarsi in Zambrotta in area di rigore Zambrotta ancora in area di rigore c'è un contatto e De Marco dice di noi Ambrosini gli va tu per tu e adesso mi sa che Ambrosini va sotto la doccia sotto la doccia Ambrosini tutti addosso a De Marco adesso rivedremo Fabio comunque io ho l'impressione che il contatto ci fosse nettissimo il contatto rimotto assolutamente beh ma anche questo devo dire si aveva occhio nudo proprio nettamente due rigori negati al Milan nettamente si vede ottimo su uno su quello abbiamo il primo questo e guarda Motta va a vuoto e prende nettissimo Zambrotta ma è lì De Marco è lì cosa può aver visto o che scivolato davvero sbagliato tantituto Ambrosini sotto la doccia pensa fosse stata una partita che valeva per lo scudetto ne parlavamo fino a Natale l'anno prossimo no da una parte e dall'altra ripeto Luigi c'è il primo tempo il rigore l'altro rigore di tutto è successo gol del Genoa e il Torino ragazzi con questo gol mette la sua posizione pesantissima pari punti del Bologna con il Lecce a due punti questo per i malpensanti è un brutto colpo che il Genoa batta il Torino ultima partita il Bologna ce l'ha in casa con il Catania e il Torino va a Roma Menes la Roma non è nella posizione ha pareggiato la Fiorentina pareggio della Fiorentina attenzione attenzione questo è un risultato clamoroso 68 la Fiorentina adesso è a tre punti e pensa quanto diventava importante quel rigore lì il Milan è a 71 la Fiorentina va a 68 e va a tre punti il gol condanna il Lecce Cacà lascia scorrere il pallone che si perde sul fondo al 45esimo esatto il gol della Fiorentina ci saranno 5 minuti di recupero il Lecce con questo gol è aritmeticamente in Serie B il rinvio di Arthur al Milan basta un pareggio a Firenze colpo di testa di Cacà però sarà praticamente uno spareggio mamma mia poi Sedorf Brighi è comparso con questo memoria per il pareggio della Fiorentina che è comparso sui tabelloni Totti ancora Totti fallo di Ronaldinho calcio di punizione intanto ci va anche con Ambrosini squalificato a Firenze Motta Taddei Brighi Pizarro Motta Taddei Traversione Cercare Totti comunque una delle più belle della stagione a Milano ma io me l'aspettavo una partita così per quanto riguarda la Roma ritmi bassi molto caldo le qualità tecniche vengono fuori e poi insomma la Roma non è che si può scordare di giocare a calcio forse le due migliori partite dell'anno le ha fatte con l'Inter qui a Milano e a Milano ancora con il Milan con l'Inter gioca una grandissima partita anche lì Zambrotta Chievo Bologna 0-0 e quei tifosi e Bologna fanno festa Zambrotta il traversone per sedo arriva Artur a far su il pallone è pronto il rinvio Artur cerca Totti grande aggancio di Francesco Totti ha giocato una grandissima partita perché ha corso molto ancora Totti gira intorno alla difesa sempre lui poi serve Pizarro Maldini senza fallo Cacà ultimi attacchi del Milan che ci prova sempre Cacà contrasto con Pizarro Cacà prova disperatamente arrivare sul pallone Filipe Brighi Totti Pizarro Flamini Cacà Chiuso da Rize Totti ancora Rize sempre Rize all'indietro per McS adesso Milan sembra non averne più gioca anche in dieci lo ricordiamo nemmeno Diamutene Motta sta per iniziare l'ultimo giro di orologio c'è Brighi che si inserisce lo vede Taddei ma ricomincia serve Totti Menes importante il suo ingresso in campo Menes va via ancora Menes in area di rigore Menes su Maldini Menes e Maldini lo ferma e mette in calcio d'angolo grande impatto sulla gara di Jeremy Menes fammi sottolineare però la prova di Maldini forse un errore nel primo tempo quando ha commesso fallo su Vucini poi per il resto perfetto sia in fase propositiva perché ha cercato di spingere anche in avanti anche qui ha chiuso molto bene così vuoi dire a un grande capitano a un signore che anche a 41 anni ha fatto ancora forse il migliore in campo della sua squadra calcio d'angolo per la Roma mancano ormai pochi secondi alla fine della partita Brighi che la batte corta prova a ripartire Ronaldinho chiuso Filipe finisce con personalità anche la Roma Brighi Filipe palla in fallo laterale rimessa in gioco ancora per la Roma con le mani andrà Taddei Filipe Pisano Taddei pallone controllato Dida vediamo se c'è spazio per un'ultima iniziativa mancano 20 secondi alla fine cercato Inzaghi dalla parte opposta colpo di testa di Diamutene poi Maldini Sedorf Totti che corre ancora al 95esimo e l'arbitro dice che può bastare Roma batte Milan 3 a 2 la Roma praticamente va in Europa lo possiamo dire sì anche se non credo sia finita ancora la partita del Palermo e il Milan invece si dovrà giocare tutte le carte nell'ultima sfida che è uno spareggio con la Fiorentina a Firenze perché il Milan è a 71 con la Juventus ma la Fiorentina è a 68 e quindi il Milan mentre c'è una rissa tra Torino e Genova come purtroppo poteva capitare attenzione perché dicevamo può perdere al limite anche una 0 il Milan perché ha la differenza reti migliore sullo spot grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti